All'inizio il secondo tempo da Germania e Bangladesh Chi è Bangladesh? Quelli veri Ricordiamo il risultato Germania 3, Bangladesh 2 Che finale terza e quarto posto? Da Bangladesh Con il penone E così a ripetito sta partito E regna porca puttana Eia! E' abbonato chi vuole Ma lo so fai chi ne hai becchi Perchè? Perchè? Per sapere come si gioca hanno ora per tutti i piedi Perchè? Per giocare indietro ccatatatatatatatatatatatoya Brazzios madonna Cosa切ate Nonowso E ce meaning di un panetopattino Cosa faire aarsi De no soir Cosa Ma tu vieni da tutta De no leads Non lo so, non lo so Rete di affaticato, Germania 4 Oh questa domani devi fare Germania 4 Che partita? Ma che partita? Ma che partita? Sì Si vede che alla fine non è una partita così tanto aperta Si risulta Perché vengono tutte e due le coppe, sia la terza che la quarta Vabbè ci sei un po' finale Contro la Francia 5 a 3 Questa qua Ma chi è? Ma chi è? La società No, non c'è Che cosa? La mia migliore amica Dice che sono tassi Eh Ma cosa è tassi? Beh E io sono tassi E voi potete ruot Beh Che io già sono tassi Quasi una settimana C'è ne so lui Oh Oh Ehm Eh No Eh Questa Eh Ero Oh Che è? Non era un altro perché era Si che dici se lo do perchè mi è giunto non so chi era no però non sapevo chi cazzo è ho fatto i punti interrogativi per sapere chi cazzo è poi ho letto imprendato con Toto Baccio mi chiede i semi anche io forza ragazzi che siamo qui per divertire ah stai parlando con l'uparello chi è l'uparello? stai parlando con l'uparello e dove hai parato a z'acqueddo? oh dicevo lì la scantina è sempre chiesto non so non so non so non so chi sono io? chi sono io? aspetti 3 di Barraco ruba i gol affaticato ma la Giovanna va sul 5 a 2 era gol eh sì lo capivo che era sempre gol un cattino il Barraco non c'ha pure i gol era gol io contro il San Giovanni Battista con Daniele era gol peggio di Barraco la palla è là dentro io l'ho toccata e l'uomo ne ha pegato il tirato e l'uomo ne ha pegato il 60 gol oh cazzo cazzo eh però io guardi il malafelone voglio fare ah la mia squadra mi sta bene a dire cazzo 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 sono sicuro che è la finale che è la finale vai vai ma chi lascia la mano? non ho altro io quando qualcuno si rompa oh che faccio è il pollo oh è il pollo il tuo compagno era erano tutte e due ti sono staccolati vieni 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 io ti devo testare il capitale no io ti devo testare non si può proventare però Francia ora riesce ora riesce a me riesce oh Francia mi ricorda che stai a mano non posso guardare non posso guardare non ci può fare c'è due c'è due c'è due c'è due c'è due non la gioca e tu devi che gioca così pure con noi io mi incazzo ogni volta però non dico mai niente il pallone non c'è due io non c'è due non c'è due un pallone 5-4 Bangladesh non mi vuoi mi guardare 5-3 5-3 5-3 5-3 Bangladesh scusate Non puoi sbagliare l'haibito, ho sbagliato qui E' un po' sbagliare parramone Calma noi stiamo facendo un pezzonone Un haibito Un haibito Rete Germania, 6-3 Buona Bruno Ma che cos'è inizia? Che cos'è inizia? Che cos'è? Che cos'è inizia? Che cos'è inizia? Che cos'è inizia? Come si chiama? Paressa Peppe e Benio Da 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 Peppe Carissa 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 Tornate Tornate Recompaniamo a mano Tira Non piglio la porta Buona dai dai Torna, torna 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 Ci vediamo, non c'è un po' nè No, 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 non c'è un po' nè Va, c'è piano piano Sì, non c'è un po' nè Ma che? È lei è la futura finanzata Quella è tua, c'è Ma che? È la mia futura moglie Ma che è? Sì Sì Ma che vuoi faceci tipico? Stai a meno Continuando Tornate Ah, le tutei Ma che non c'è, non c'è È la mia futura Ma che vuoi, che vuoi? Che vuoi fare? Che vuoi? Ma poi pure il botone Com'è? Ma, dove vai su? Ma vuoi fare? Cia Chi è Tu, ebbero Ma puoicompiare? no 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 torno piano piano vabbè non ti lasciare altro eh eh intetto un milan biopù fatti veloce 1-2 si sono fatti là no no franno vogliamo la portata a terra ciao Gabbia Ciao Gabby Sì, però copri Copri Eh, non c'è il cappello Allora, non c'è il cappello Non c'è il cappello Datti a comprare qui Non c'è il cappello Giora Non c'è il cappello Aspettino Ma beh, il giorno 12 ci fa dipendere sotto le stelle pure Ah, vedi la squadra No, io ho la squadra Con tutti i miei amici Giocavamo tutti a 11 al Palermo Quando eravamo più piccoli Ehi, Gabby Ehi, Gabby Oh, aspettino Guarda, vedi la squadra Guarda, vedi la squadra Facessero schifare 1 al Palermo Non c'è nessuno 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 Con le orse che abbiamo Ehi, oh, fissi Ma sai schermo perché è vero si è mangiato il rigore Shhh Ci ho detto che è stato un sceso Ma quanti punti avete fatto? Aia, agli altri! Vestino, vettiero, vedi? Senza fallo! È così, è terribile. Ci guarda, vedi? Vieni che ne ho fatto così. Vieni, vieni. Vieni! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. non scaccia, chi si fa i sette anni fa? c'è, bett i cazzo ha uno di quei accanto ma se c'erano tutti a due eh eh, bett i cazzo giocavano tutti c'era bett i toto in nero no, no, no io non parla, avessimo vincito avessimo vincito toto in nero oppure c'erano i partiti italiani ripartito su 12 e 9 avessimo vincito toto si, finalmente non si giochiamo mamma, e poi giochino oh, 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 oh non mi va bene in italiano, c'è l'ambito ma c***o è il pozzo occhio la frase è cattiva no, 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 no vabbè, oh ti raccomando, fai le ore queste golle ma con il te lascio e fare un segnale che vi sto andando in un'altra ma vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè vabbè, vabbè vabbè questo è una finalazze minchia bella partita vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè vabbè, vabbè 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 no, ma questo pareggio è venuto da qua no allora, se io ho la squadra quella che ho sempre giocato non c'è partita riferiti da tenere vabbè, con questa squadra che ho io magari ora ma se tu ti dà eh, io anche, portateli dentro di noi stessi, liberi io li colgiamo la mano, al finale siamo noi 34 ma speriamo ciao eh, dove c'è? no non riesco io stè quello non esce è inutile, non esce dentro le fanno male mi fanno una giugata mi fanno una giugata? non c'è una giugata? mi fanno una giugata mi fanno parlare eh? vai 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 e vai mettilo sotto qua Non c'è la famiglia. per cambiare il gioco. Si non si forza troppo. Ma senti che si è passato tipo... ...la scelta, lui tira, io pote, e finisce a fare ma... Buona stella! Ma magari ne pieti, non pago ragazzi. Ma non pote, non pote, non pote, non pote, non pote, non pote, non pote. per ora amore scomera credito di un mare non ce la fa chiusi no non cambia non cambia guarda tu che matillo dai c'è molto libero mi piace ma parma chiede è il fatto sotto ora è il fatto 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 non so ti dai il giallo non andare fuori scimurito il tiro libero da voi tu appena fischi può andare fuori retti di giocano il tiro libero dipende il nostro torneo pure c'è questa regola si può fare pure certo il tiro libero ovunque dove ti fai il fallo dopo il pallino certo ma è normale 21 eh hai appena il 23 ma mi dici che me ne voglio io te non lo so io non lo so ma scopriamati il cambio io lo chiamo se non vuoi pillo no minchia di uscire tu hai sentato ora che è niente tu hai lo stesso barrio con una che è in campo e segna tutto il tuo campo perchè mi è caduto qua ma è per cosa però 25 ore non hai la figlia con me mo la fa questo ghiaccio oh oh me lo deve offrire me lo devi comprare il ghiaccio Amo Infatti con me io ho notato i miei Amo E' come io penso male Pensare al pompeo Oh stai Invece del gelato Pensano male Io mi devo provare quanto è stato Quanto stiamo? 12-4 Germania 12 Tu diceveso 8 Mi larghi E tu c'è una porta E la cosa è bruttissima No ha detto che è tu No E la cosa è bruttissima 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 Saga Saga Abbi E' come mi presenta Allora ti so Ma ci ho un tante Si è un cacchiero Più se il tuo mie lo fai Come mi vado a fare tutti L'autorina sottista Non mi chiamavamo Non dici stai niente Noy, di che anno ne ho scuola Tu come mi siete dicendo Quei anni ho scuola Cioè La scuola Ragazzi la portiè di tutto io Io non ne ho scuola Però la scuola è sua Del portiere Forse mancano ancora tu le due persone Non ti sto spostando Forse ne mancano ancora tu Eh, non ne fai Guarda tu cacciami Secondo me manco tu al sangue Io sei buona Ma non parla queste donne, mi senti Mi senti Non me lo fai quindi Dai Un regolino piccolino Serve solo la tua mano Una bella sera Ma che stai chiesto Questa cosa mi indica Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, finita signore. Germania arriva al terzo posto della Confederation Cup, Bangladesh.